Un consiglio regionale che ha molto operato sul settore della cultura in questi anni. Abbiamo approvato la legge di riassetto del sistema culturale abruzzese, abbiamo approvato recentemente la legge sui parchi letterari, quindi questo premio si pone nel solco di una tradizione del nostro consiglio che vede nella cultura e nella promozione della stessa uno degli elementi portanti dell'azione politica ed amministrativa. C'è da lavorare nel solco di ciò che ha rappresentato Benedetto Croce, il quale con il suo umanesimo, con il suo idealismo e con le sue posizioni politiche liberali ha dato la pietra fondante a quella che è l'Unione Europea. Una Unione Europea che oggi forse deve riscoprire questi radici ancora più di prima perché il rischio che diventi unicamente un'associazione commerciale globalizzata è sotto gli occhi di tutti, quindi più croce in Europa affinché la nostra società sia in grado ancora una volta di mostrare quelli che sono i nostri elementi fondanti al resto dell'umanità. Grazie a tutti.